Sotto di due gol la Vibonese rimonta ma non va oltre il pari e deve rinviare ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. A Luigi Razza la sfida con il Pomigliano finisce 2-2, un risultato che ai rosso-blu serve solo per evitare l'ultimo posto in classifica. Informazione rimaneggiata per via delle numerose assenze, Tonino Soda opta per la difesa a tre con Dadal sacrificato a destra e Orbano riproposto a sinistra. L'avvio però è traumatico, al primo affondo il Pomigliano passa in vantaggio, Varriale devia di testa all'incrocio dei pali un calcio di punizione di Panico. Mengoni vola ma non ci arriva, Soda quasi non ci crede, sono passati due minuti e la sua Vibonese è già sotto. Il peggio deve ancora arrivare, la risposta del rosso-blu è infatti alquanto tiepida. Spanoa è il più vivace, ci prova al quarto con una delle sue punizioni del limite, la mira è imprecisa e la palla sorvola la traversa. L'attaccante di Gioia Tauro ci riprova al settimo fornendo un buon assistato ad alte. Di Costanzo è attento e la porta ospite, resta al sicuro. Il portiere napoletano deve fare i distraordinari al quattordicesimo quando entra ufficialmente in partita Gennaro Marasco che si beve. Mezza difesa e scarica da dentro l'aria un raso terra deviato in angolo. È solo una fiammata, la Vibonese non carbura e il Pomigliano trova il clamoroso 0-2. Sul cronometro scorre il ventiduesimo sugli sviluppi del primo corner ospite. Pesce beffa tutti ed in girata sigla il raddoppio infilando Mengoni. Sul lui girazza cale il silenzio assoluto. Sembra l'inizio della fine invece l'inizio di una rimonta. Soda corregge il modulo tornando alla difesa a quattro. Il gol che riapre il match arriva al ventinovesimo quasi per caso. Calcio d'angolo tirato da Spanoa e deviazione. Volante di Marasco per l'attaccante di Pozzuoli si tratta del quarto gol in campionato, il quinto stagionale. Le due punte a rosso-blu si invertono in ruoli al 34esimo quando la Vibonese agguanta il 2-2. Marasco si trasforma in assistman e Spanoa in goleador. La combinazione tra i due è perfetta, il gol è bellissimo. Il Luigi Razza si rianima e i rosso-blu escono fuori da un vero e proprio incubo. Prima dell'intervallo sfiorano addirittura il sorpasso, protagonisti sempre loro, Spanoa e Marasco. L'Under calcia un'altra punizione velenosa e il Bomber corregge di un soffiallato. Nella ripresa la Vibonese prova a fare la partita ma il Pomigliano si difende con ordine. Così l'unica conclusione in porta del rosso-blu è un tiro cross di Urbano che mette in imbarazzo il portiere del Pomigliano. I padroni di casa sparano a salve e nel finale il Pomigliano sfiora il nuovo vantaggio. Pasticcio di Mengoni e Porpora al limite dell'aria parentato ne approfitta depositando la palla in rete. L'arbitro annulla su segnalazione del suo assistente per una sospetta posizione di fuorigioco. La Vibonese tira un sospiro di sollievo, così però proprio non va.